Continua a crescere il numero di concerti annullati e rinviati nel nostro paese per l'emergenza coronavirus. Tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, scuole di ballo, discoteche, sono chiusi i musei, gli altri istituti e i luoghi di cultura. E' un mondo in tutto quello dello spettacolo. I protagonisti del mondo dello spettacolo stanno affrontando enormi difficoltà. Siamo costretti con tutte le sale, cinema, teatro e concerti a chiudere il programma. C'hanno separato e forse non mi senti, ci hanno chiesto questo senza fare lamenti. E poi obbligati anche a dover stringere i denti. In quei giorni vuoti che scorrevano lenti E già un'altra estate arriverà Ma quest'estate già qua, così bella senza maschera E da ogni palco partirà Una canzone libera In questa notte magica C'è una musica che sale Che nessuno può fermare E' la musica del cuore Batte senza far rumore Siamo fermi da 2020 Siamo pronti per 2020 2020 2020 Oh 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 Siamo stati il suono di strumenti spenti Ora invece dimmi in fondo cosa senti E una radio dice che si torna a volare E una radio dice che si torna a volare E una radio dice che si torna a volare E la musica del cuore E la musica del cuore Batte senza far rumore Siamo fermi da 2020, ma ora no, siamo pronti per 2020 C'è una musica che sale, che nessuno può fermare È la musica del cuore, batte senza far l'umore Siamo fermi da 2020, ma ora no, siamo pronti per 2020 2020 2020 2020 2020